classe 90 moreno mosera ma testa da veterano questione di geni chissà ma condotta di gara da volpone navigato gran premio di francoforte edizione 2012 a 40 chilometri dall'arrivo lo scattoli toni martini ridato a cronometro mica uno qualunque che se ne va da solo dal gruppo più tardi al tedesco si uniscono in tre il russo firsanovi il francese nerz e appunto moreno mosera cambi regolari il quartetto resiste compatto a 700 metri dal traguardo quando pare si debba arrivare allo sprint la stoccata di mosera eccola qui una stilettata che non lascia scampo ai tre avversari il campioncino taglia il traguardo a braccia alzata secondo successo da professionista per moreno 32 anni fa quassù zio francesco arriva secondo mica male il nipotino certo è presto per entusiasmarsi ma vedere un altro moser sul primo posto del podio in una classica fa un certo effetto moreno moser porta sulle spalle un retaggio che sarebbe pesante per chiunque quello dello zio francesco l'italiano più vincitore di sempre con 273 successi per un ragazzo di 21 anni è invece un pungolo straordinario il confronto difficile è difficile eguagliare quello che ha fatto mio zio però mi piace confrontarmi con lui vedere magari su wikipedia i risultati che ha fatto dal primo anno e le vittorie che ha fatto un po per vedere se riesco a stare al passo con lui la perentoria vittoria di ieri a francoforte rende inevitabili i confronti con l'illustre zio naturalmente ma anche con certi finali di gara di giuseppe saronni il grande rivale di zio francesco come caratteristiche è una buona progressione sul su tempi corti da giovane ha fatto anche qualche risultato nel seguimento nei tre chilometri in pista è una caratteristica che mi aiuta molto a vincere le corse sicuramente ecco come francesco moser vinse la sanremo dell'84 non assomiglia alla vittoria di moreno di ieri giudicate voi a questo si aggiunge il promettente gagliardo vigore di un giovane che se non ha la stessa fame degli altri corridori di famiglia papà diego zio enzo il cugino gilberto simoni mostra comunque un consistente appetito però sicuramente non mi accontento voglio sempre di più e ci sono ancora dei grossi appuntamenti c'è campione italiano qui a borgo e poi spero di ritornare in condizione e vincere altre corse questo questo sicuramente grazie a tutti 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 grazie a tutti